Questo lo reggi tu? L'Ecomulo oggi è a Cinecittà con i suoi lavoratori, eravamo qua dei passaggi, ci siamo fermati, abbiamo bisogno stare in questa realtà, sopra stiamo scioperando per la fame, sopra stiamo scioperando per la fame. Dovete dare qualcosa da dottore al nostro Presidente? Sì, abbiamo un messaggio per lui, abbiamo cercato di raggiungerlo, abbiamo mandato qualche messaggio, ma non abbiamo ancora risposta, quindi fidiamo in voi. I nostri muli ci troveranno. Fidiamo nei vostri muli, che sono testati, e speriamo che questo messaggio arrivi. Grazie a voi, grazie a voi. Se voi portate i pizzini dell'Italia migliore, il Presidente se lo voleva presentare, vi deve almeno leggere con attenzione. Grazie a voi. Grazie. Grazie a voi.